A seguire ci sarà alle 22 la visita mirata alla mostra di Paolo Giori, ci sarà una nostra assistente, la signora Beato, che vi accompagnerà su nelle sale espositive della mostra. Grazie. 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 Dove sei? Vieni te, ad invoco, vieni tu invocata. E un'altra volta sei venuto, sei venuto a me. Hai soggiocato il tuo carro bello e sei venuto a me. E i passeretti, agitando le voci, le ali, ti hanno portato sulla nuda terra, qui, davanti a me. E il tuo sorriso luminoso, immortale, davanti a me, davanti a me. E tu lo hai detto, tu lo hai detto, che cosa ti tormenta, che cosa, di chi vuoi che ti dà l'amore. Chiunque sia, io te lo darò. Perché se ora ti sdegna i tuoi doni, li implorerà. Perché se si allontana, si avvicinerà. Perché se ti tormenta, ti darà gioia. Tu lo hai detto, vera. Vieni, vieni, sei tu, la mia alleata. Perché io, io l'odio e l'amo, e non so, non lo comprendo, e me ne tormento. Ma sento così, che l'odio e l'amo, e non lo comprendo, non me ne tormento. E mi sembra che sia come un dio, che sta di fronte a lui, e lo guarda, e ride dolciamente, e che parla rivolmente. Ma a me, questo, quando io lo vedo, mi si annebbiano gli occhi per un velo, e mi ronza nelle orecchie un sospiro. E mi si spezza la voce, e mi si spezza la lingua, e un tremito mi sconvolge tutto, e mi sembra di essere, di essere a un passo dall'essere morta. Tutto questo si può sopportare, tutto questo si può sopportare, tutto questo si può sopportare. Oltate, la montata di la luna, delle plebe e di mezza notte, il tempo passa, e io dormo qui, sola. Invia mio soccorso te, in via mio soccorso. Un sogno in amore, almeno un sogno in amore.